Continuano le selezioni per eleggere il vincitore del primo live in Bergamo. Per meglio conoscere i gruppi partecipanti, intervisteremo in questo secondo Special One un'altra coppia di band che hanno partecipato alla gara, di Freddo Cane e i Nachos Wave. Oltre a loro, per cominciare a sentire l'aria di vacanze, andremo in Sardegna dal gruppo dei Sonno-Colla. Aio, orecchie aperte!